Dottor Antonio Marziale è nella vallata dello Stilaro per una giornata intensa di studio. Stamattina ha incontrato i ragazzi e questo pomeriggio incontrerà le famiglie e le istituzioni. Dobbiamo tutti sentirci responsabili allo stesso modo, allo stesso livello della cura dei bambini. Come dico sempre, la tutela del minore non ha bisogno di eroi straordinari, ha bisogno di gente ordinaria che si occupa ogni giorno di questi piccolini che vivono in un momento di transizione che vivono in un momento di grande incertezza, con focolai di guerra accesi dovunque, che assistono a telegiornali e a notizie spaventose che riguardano i loro piccoli coetanei, ma li ho visti molto preparati, molto sensibili, mi hanno fatto tante domande, addirittura quelli della materna mi sono seduto con i loro banchetti e mi hanno dato i formaggini da mangiare con loro. Voglio dire bambini che hanno bisogno di essere curati, bambini che hanno bisogno di amorevolezza, bambini che fa bene il territorio con la chiesa, con Don Enzo Chiodo che poi è l'animatore della giornata, con i sindaci, con le scuole, con le dirigenze, con i docenti, a interessarsi di questo momento, cioè della cura che si deve a ogni bambino. Si fa oggi a Pazzano un'iniziativa col garante per l'infanzia di grande interesse che coinvolge i tre comuni di Pazzano, Bivongi e Stilo. È un'occasione importante per una vallata che rischia di essere a poco a poco privata dei servizi essenziali della scuola e con gravi ricadute sui bambini, sull'istruzione dei bambini, sul loro futuro e sul futuro stesso dei paesi della nostra vallata. Siamo ben lieti di aver accolto nelle nostre scuole e anche nei nostri paesi il garante per l'infanzia, il dottor Marziale. Ci ha dato una lezione di stile e anche di coraggio nell'affermare come la crisi del momento è una crisi educativa in cui tutti dobbiamo impegnarci come comunità a diventare luogo educativo e quindi abbiamo deciso di compiere questo percorso che ci impegnerà tutti ad essere capaci di creare delle coordinate e di dare anche un aiuto ai genitori in questo momento difficile in cui l'educazione viene settorializzata troppo e l'educazione non viene assunta con i propri ruoli e con le proprie competenze. Con l'incontro che avremo questa sera, le istituzioni locali, le famiglie, il garante per l'infanzia della regione Calabria, chiudiamo e apriamo una fase. Chiudiamo una fase di programmazione nella quale volevamo gettare le basi del prossimo trenio, del percorso socio-educativo che avremmo voluto affrontare. Abbiamo fissato un obiettivo e quindi apriamo la programmazione all'educazione, in questo caso l'educazione al vivere la comunità. Educare costa molta fatica ma è un ruolo che tutti noi dobbiamo assumerci, sia che siamo docenti, sia come famiglie, sia anche come semplici cittadini perché noi dobbiamo ricordarci che la maggior parte dell'educazione avviene in forma implicita e quindi i nostri ragazzi imparano anche semplicemente guardando i nostri comportamenti, ascoltando anche il linguaggio che viene utilizzato nelle strade. Ecco, quindi è importante creare questa sinergia e sentirci tutti educatori. Abbiamo appena vissuto un momento veramente importante per tutte le nostre comunità. un appuntamento dove il garante per l'infanzia oggi ci ha dato una vera lezione di vita. Diceva giusto stamattina a Bivongi, ai bambini, il dottore Marziale, quando diceva che la più grande sconfitta è l'esistenza di un garante per i minori, per l'infanzia, perché vuol dire che l'infanzia spesso viene negata, se ci devessero un garante per garantirla. Una società giusta sarebbe una società senza bisogno di un garante, appunto, una società che riconosca ai bambini il diritto di vivere, il diritto di avere un futuro, il diritto dell'istruzione, il diritto ai giochi, il diritto alla salute.